ciao ragazzi siamo qui per fare un nuovo video per parlarvi delle nostre nuove cose che stiamo in programma tra cui un progetto con altri nostri colleghi di mirano con una pagina facebook comune e per farvi vedere un po visto che da tanto che non ci vediamo magari eravate preoccupati e come stavamo vi facciamo vedere qualche novità qualche gioco nuovo ci terremo a farvi vedere la ditta su cui puntiamo quest'anno che era jeanot questo natale una bellissima ditta francese come piace a me che fa dei giochi veramente simpatici e molto molto buoni qualitativamente poi la nostra nuova acquisizione sempre dalla francia sono i timbri abbiamo varie varie scatole di timbri soprattutto quelli in legno come quelli che si usavano una volta abbiamo i timbri per i bambini di due anni con il chiostro lavabile abbiamo le due confezioni poi seguitemi abbiamo tutta la serie delle bamboline di rubens dalle piccoline le le ballerine con il gonnellino che si trasforma in braccialetto e le le bambole grandi e neonati che stanno dormendo nella culla questa è la nostra vetrina ma adesso piano piano la trasformeremo in quella natalizia vedrete che novità abbiamo tutti i nostri nuovi arrivi di efi tra cui soprattutto la nuova copertina copertina invernale natalizia con l'elefante tutta in cotone biologico poi abbiamo la nuova serie slide di tutti i soldatini storici l'egizio il macedone insomma li vedete voi il ninja tutto il reparto scientifico ma adesso non ve lo faccio vedere perché a breve ci arrivano delle cose nuove quello che vi faccio vedere sono i nostri nuovi giochi in scatola questi si sono davvero belli c'è la chiappa mostri soprattutto nuovo e ristorante italia questo è uno dei giochi più belli che ci che siano usciti da quest'anno e l'anno scorso un altro gioco che piace molto alla mattina one banana che veramente molto simpatico e divertente l'unico a cui la mattina riesca a giocare ci abbiamo in arrivo un sacco di giochi nuovi tra cui forse i trenini ma non vi anticipo niente perché altrimenti poi non avete più la sorpresa avremo la meccano nuova che ci arriva abbiamo le bambole i giochi didattici giochi in legno ma questo li teniamo tutte le sorprese per i nostri nuovi video ciao ciao